Ciao a tutti, con questo video vogliamo augurare a tutti un felice periodo di avvento e un buon Natale, buone feste. Io e Stefania siamo praticamente il simbolo di una comunità che è sempre più ricca di, diciamo, culture diverse e come punto di incontro di, diciamo, di culture diverse, però questa nostra diversità comunque ci ha arricchito molto perché comunque sia io che te comunque praticamente siamo cresciuti molto basandoci appunto sulle nostre tradizioni, i nostri modi di fare, le nostre idee che ci hanno appunto portato a crescere in tutto questo. Abbiamo portato il meglio dai nostri due mondi. Come appunto il Vangelo ci dice, dobbiamo essere tutti fratelli, soprattutto in questo momento difficile in cui tanti stati non sono in una situazione felice dove ci sono tanti popoli che fanno guerre tra di loro. Il nostro messaggio è quello che, diciamo, è un messaggio di fratellanza rispetto a tutte le popolazioni. E di tanto amore anche. Che alla fine il seguire il comandamento dell'amore, che è quello che è contenuto nel Vangelo, è la chiave, diciamo, più importante per risolvere tutti i conflitti, tutti i litigi, eccetera, eccetera. E alla fine davanti a Dio siamo tutti un'unica famiglia. Anche, come ho detto, anche se proveniamo dall'altra parte del mondo, io e lei praticamente siamo contenti di esserci trovati, però ci sentiamo proprio insieme in famiglia. E' proprio grazie a questo che comunque andiamo avanti e anche nelle difficoltà comunque riusciamo a sorpassare tutti i nostri ostacoli. Buone feste a tutti. Tanti auguri. Un felice periodo di avvento a tutti. E un felice cammino a tutti i nostri fratelli, nostre sorelle di tutte le parti del mondo, della nostra comunità pastorale. Grazie a tutti e ci vediamo. Un bacio. Ciao.